Storie di vita che hanno lasciato emergere grandi qualità umane. Un'azienda leader nel proprio settore che porta il Molise nel mondo, diventando sempre più un vanto di questa piccola terra. E' un legame fortissimo tra imprenditore e dipendenti. Questa è in sintesi l'essenza, anzi il gusto, visto il tema della trasmissione, della prima puntata di Bossi in Incognito, il programma di Rai2 condotto da Max Giusti che ha visto come protagonista Claudio Papa, manager della Dolce Amaro, impresa con sede in provincia di Isernia, Monteroduni, che produce confetti e cioccolato, da tempo impegnata anche nel campo della sostenibilità, avendo ridotto le emissioni di CO2 e producendo in autonomia il 20% dell'energia. Le persone sono la chiave del nostro successo, collaboriamo tra noi e con i nostri partner per raggiungere insieme gli obiettivi, aveva detto Claudio Papa, titolare col fratello Silvano, alla vigilia della messa in onda ed effettivamente l'esperienza che ha vissuto mascherandosi e diventando Vincenzo, apprendista accolto dal personale della Dolce Amaro, ha messo in luce proprio una sinergia tra lui e i suoi dipendenti, fatta di cuore e professionalità. Vincenzo è stato aiutato e ascoltato e lui stesso ha fatto proprie le storie dei dipendenti, provati dalla vita ma che sono riusciti a riscattarsi, a sostenere i figli e i parenti, anche grazie al lavoro e all'opportunità che Papa ha donato loro e all'azienda che per tutti è diventata una seconda famiglia. L'imprenditore commosso e colpito dai suoi dipendenti ha voluto ricompensarli con dei riconoscimenti, dei viaggi, persino un contratto a tempo indeterminato, ma è l'affetto che li lega che ha colpito e commosso tutti, quella chiave vincente per l'impresa e per l'anima. Grazie a tutti.